Il Crema 1908 è pronto a tornare in Serie D a pochi mesi dalla retrocessione maturata sul campo. Sì, la possibilità c'è ed è anche molto concreta. La buona notizia per il Crema, che nel frattempo è passato di mano con la cessione della società da Enrico Zucchi a Mirko Saimir Carai, è che si sono liberati i posti nella vecchia quarta serie. È notizia ufficiale di ieri da parte della Lega Serie D, infatti, che quattro società non si sono iscritte. Si tratta dell'Alessandria, del Monte Prodeco, della Matrice Rieti e del Rotonda. Quattro club che dunque fanno scendere il numero degli eventi di rito alla scadenza del 12 luglio scorso, ma soltanto ieri appunto il dato è stato ufficializzato, a 164. In totale però la Serie D dovrebbe essere a 168 squadre senza considerare l'Ancona, perché quest'ultima società entrerebbe in caso in sovrannumero in un girone dispari. Dunque, vi sono quattro posti a disposizione. La buona notizia per il Crema 1908 è che, stando ad una classifica ufficiosa ma abbastanza attendibile e non a caso, riportata da più parti, i cremini sarebbero proprio quarti in classifica in Italia dietro allo Zenit Prato, al Charlie Smuzzane, al Ciliverg e davanti al Giulia Nova, che in questo momento sarebbe la prima squadra esclusa. Come si stira la classifica? In base a una serie di criteri che tengono conto del merito sportivo, chi ha retrocesso ai play-out ad esempio a più punti di chi ha retrocesso direttamente, del bacino d'utenza, della storia con anni di permanenza in Serie D, del settore giovanile e di altri aspetti che sommati danno un punteggio. Al termine di questo calcolo viene stilata la classifica che alterna, una mancata promossa negli spareggi nazionali di eccellenza, a una retrocessa dalla D. Il Crema 1908 è la migliore delle retrocesse per punteggio dopo i friulani del Charlie Smuzzane, motivo per cui è quarta in classifica generale. Chiaramente la graduatoria tiene conto soltanto dei club che hanno fatto domande di ripescaggio, che su una ventina circa, che avrebbero potuto farlo, sono stati 11. Il Crema 1908 è tra questi e ora spera, anche se per avere l'ufficialità occorrerà attendere probabilmente il 25 luglio, quando ci sarà la pronuncia definitiva sui possibili ricorsi delle quattro società che hanno vista rigettata la propria domanda.